Braia riabbraccia Lorenzo Di Stefano, attaccante centrale corteggiato a lungo da Filipponi. Si tratta di un prestito dal Modena. Il giovane attaccante ha mosso i suoi primi passi nel settore giovanile del Catania per poi proseguire la sua crescita calcistica nell'Under 17 della Sampdoria. La sua carriera è proseguita con esperienze importanti. Il passaggio al Gubbio sotto la guida di Mr. Braia, poi la Prodo a Lecco in Serie B e infine, a gennaio, il trasferimento al Modena. Ora Di Stefano è pronto per una nuova sfida, questa volta con la maglia rosso-blu. Sono molto emozionato e felice di essere qui a Campobasso, ha dichiarato il giocatore al suo arrivo. Conosco Braia, lo sento da lui e so cosa vuole dai suoi ragazzi. Amo il suo modo di lavorare e so bene che con lui si fa sempre sul serio. Di Campobasso ho sentito parlare, ho visto i video sul web, di una piazza calda e appassionata, quindi non vedo l'ora di iniziare. Così il nuovo acquisto rosso-blu. Di Stefano oggi può rappresentare una valida alternativa nel reparto offensivo che oggi può contare su Lombari, Di Nardo, Spalluto, Forte e Fagioli. A proposito di quest'ultimo, pare siano fondate le voci di un imminente divorzio dal Campobasso. Solo la società potrà confermare questa eventualità. Potrebbe essere legata ad un surplus di giocatori in attacco o ad un giudizio non positivo da parte dello staff sull'inizio di campionato di Fagioli. Li staremo a vedere. Potrebbe non essere l'ultimo innesto in attacco. Sarebbe infatti vicino alla firma anche il classe 2005 Simone Leonardi che potrebbe essere girato ai rosso-blu in prestito dalla Sampdoria. La questione dovrebbe essere di qualche ora. Il Campobasso in queste ore sta cercando, nei limiti del possibile, di irrobustire il reparto offensivo. Leonardo andrebbe ad arricchire anche la sezione dei fuori quota necessari per il cosiddetto minutaggio. Mercato che si appresta a vivere gli ultimi sussulti anche se l'arrivo già ufficializzato dell'attaccante Cianci alla Ternana può essere a tutti gli effetti uno squillo di tromba. Cianci giunge in prestito dal Catania. Non solo gli Umbri hanno aggiustato anche la porta con l'arrivo dell'estremo difensore Gianmarco Vannucchi dal Taranto. Ecco il Legnago in Molise. Quest'oggi la squadra di Gastaldello raggiunge la nostra regione distante ben 700 chilometri dal centro in provincia di Verona bagnato dall'Adige e che conta 26.000 abitanti. Così l'allenatore del Legnago alla vigilia della partita. Il Campobasso è una squadra tosta. Io l'ho vista dal vivo, l'ho vista in tv. È una squadra molto fisica, una squadra che gli piace giocare la palla ma sa giocare anche molto in verticale e soprattutto davanti a giocatori molto pericolosi. Dobbiamo prepararci bene, ci siamo preparati bene perché ci aspetta una partita difficilissima non solamente dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista ambientale perché è la loro prima partita in casa davanti al loro pubblico ci sarà un bellissimo ambiente e mi aspetto una squadra che parta forte una squadra che ti venga a pressare forte per cui noi dobbiamo ribattere colpo su colpo dobbiamo essere pronti a non farci schiacciare a non farci intiborire ma avere la personalità di tenere botta e di creargli anche dei pericoli perché il Legnago ha la possibilità di creare dei pericoli a qualsiasi squadra di questo campionato. Entrambe hanno perso all'esordio in due maniere completamente differenti Rosso-Blu dopo una partita equilibrata ad Arezzo il Legnago dopo essere stato avanti 2-0 prima di subire la rimonta del Ponte d'Era e capitolare il Campobasso punta al successo senza mezzi termini oggi non è da escludere un pronto debutto di Di Stefano dal primo minuto nel Rosso-Blu fuori gli indisponibili Mancini, Bigonzoni e Baldassine per infortunio Mondonico squalificato per un turno dal giudice sportivo tornerà in panchina il tecnico Braia squadra, staff e dirigenza puntano pure al calore del pubblico del Molinari siamo a quota 2.000 abbonati e con una prevendita che ha già superato i 500 tagliandi domani partita vera e di un certo peso specifico per il Campobasso e per il Legnago Salus calcio ancora d'agosto sì, ma non troppo